Due siciliani ai vertici dello Stato, Sergio Mattarella e Ignazio Larussa, un palermitano e un catanese. Nessuno che abbia notato il particolare che in un certo senso sa di riscatto del Sud. Se vogliamo è questo il dato che va sottolineato con l'elezione di Ignazio Larussa presidente del Senato, piuttosto che parlare a tutti i costi di viti, cercando tensioni che non esistono, ma che comunque fanno riflettere. La prima pagina della nuova legislatura, sono questi i commenti, è stata una brutta pagina. È da ieri che si sente parlare di crisi della destra ad inizio di legislatura, ma nessuno crede al rischio di una destra spaccata. Siamo davanti forse ad una inutile speranza e a una facile illusione per chi magari aspira adesso ad entrare dalla finestra. E la conferma arriva da Letta, lo sconfitto delle elezioni, il quale dice che il voto al Senato certifica che una parte dell'opposizione vuole entrare in maggioranza.